Cultura, sport, enogastronomia e artigianato, c'è questo e anche di più nella 17esima edizione della Settimana Marzicana che si svolgerà dal 30 luglio al 5 agosto ad Avezzano, nella splendida location di Villa Torlonia e nelle strade adiacenti. La presidenza del Consiglio regionale ha messo il suo patrocino all'iniziativa, riconoscendola come una delle più importanti e significative del territorio, eventi diversi che mettono comunque in luce le qualità più importanti sotto il profilo economico e sociale della città di Avezzano e della Marsica intera. Il Comune di Avezzano e la Proloco organizzano, ma ci saranno ben otto eventi, propri della Presidenza del Consiglio regionale. Ad illustrarla è il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. La Presidenza del Consiglio ha rimesso a disposizione Parco e Villa Torlonia proprio perché c'è una richiesta, c'è un'esigenza da parte del territorio, non solo marsicano ma anche regionale, di voler organizzare delle iniziative all'interno di questo splendido complesso. Restituita alla collettività dove la Regione Abruzzo, di nuovo il Consiglio regionale della Presidenza, fanno da tutor. Quindi all'interno di queste iniziative che l'ufficio di Presidenza, la Presidenza organizza, sono incontri, le istituzioni incontrano i cittadini, si sono inserite anche Proloco e Comune di Avezzano a voler organizzare una serie di eventi. La Proloco organizza la settimana marsicana, che è un evento storico che veniva fatto negli anni 50 nel nostro territorio marsicano, è stato ripreso da due anni da questa associazione Proloco e questa è la terza nuova edizione. È da valorizzare perché è una settimana piena di circa 114 eventi. Poi ci sono queste otto iniziative dell'ufficio di Presidenza, che sono le istituzioni incontrano i cittadini, che vanno dalla storia del Parco Torlonia e Villa Torlonia, incontro con la musica abruzzese, incontro con il sistema delle realtà abruzzesi per far conoscere questo progetto sull'idrico integrato nel Fucino, incontri con le università abruzzesi per far conoscere le nostre università, le migliori e eccellenze, insomma una serie di attività che coinvolgono cittadini e istituzioni. Il Comune di Avezzano ci ha chiesto di poter organizzare circa, mi pare, le 11-12 rassegne di terra amatoriale all'interno e quindi si è formato un carnet di iniziative che possono essere gustate non solo dalla collettività regionale abruzzese, ma anche dai cittadini limitrofi alla nostra regione.